Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffico decisamente sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 verso Bologna troviamo code a tratti e rallentamenti tra Arezzo e Incisa Reggello, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, tra Firenze Imprunete e BV1 Variante e tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Verso Roma rallentamenti tra Barberino e Calenzano. Qualche problema anche sulla A12 dove ci sono code a tratti nelle due direzioni tra Colle Salvetti e Rosignano, coda in uscita alla barriera di Rosignano verso Rosignano e code a tratti verso Genova tra l'allacciamento Statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano. In A15 sono 5 km di coda per traffico tra Ulla e l'allacciamento A12 per chi viaggia verso la Spezia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!